Ok ragazzi, allora, metto subito le mani avanti, oggi video decisamente diverso dal solito. Per andare a rispondere a tre domande che mi state letteralmente spammando e anche giustamente, anche giustamente, sotto i video, nei commenti, su Instagram, in live, ovunque, sostanzialmente ovunque. Vi dico anche che oggi non andrò a giocare, so che a molti di voi piacciono le GG News o comunque piacciono quei video dove parlo sostanzialmente perché comunque di sottofondo gioco anche e non sono delle giocate pre-registrate ma sono proprio io che in diretta gioco, però oggi ragazzi mi serve il focus 100% su quello che dico perché sono discorsi un po' particolari che vorrei trattare in maniera abbastanza accurata. Cerco di farlo comunque anche nelle GG News e negli altri episodi, negli altri video, però so che non riesco quasi mai a dare il 100% sui discorsi, sulla dialettica, eccetera, eccetera. Comunque, le tre domande sono dove so finite le GG News? Gigi, perché non stai parlando del capitolo 3 di Fortnite? Gigi, cosa ne pensi del capitolo 3 di Fortnite? Cercherò di parlarne nella maniera più veloce e concreta possibile. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando, ragazzone, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie davvero di cuore a chi lo farà. Lasciate anche un bel mi piace, lasciate un bel mi piace, ragazzi, per questo capitolo 3 di Fortnite, ed iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto. Comunque, se non sapete di cosa sto parlando nel momento in cui cito il capitolo 3 di Fortnite, vuol dire che nell'ultime due settimane, bene o male, non avete seguito minimamente la scena di Fortnite, e che ormai si sta parlando solo di quello. Sia perché comunque la stagione è un po' andata a morire, sia perché comunque il capitolo 3 di Fortnite è una notizia bomba, devastante, che chiaramente prende subito la scena, se vogliamo, di tutto il panorama. E diciamo che voglio partire dalla domanda un po' più semplice, ovvero GG, perché non hai parlato già del capitolo 3, dato che ne stanno parlando tutti, che prende da due settimane a sta parte e tutti stanno a fare video su sto capitolo 3, tranne io, sostanzialmente, forse sono stato uno dei pochi, anche gente che non ha mai trattato news, ha fatto video sul capitolo 3, ma giustamente, perché comunque mi rendo conto che si tratta di una notizia decisamente importante. Il problema però, ragazzi, è che non è una notizia, cioè, come vi posso dire, non è un leak, non è qualcosa di ufficiale o con delle prove schiaccianti, o meglio, ha delle prove molto interessanti, molto ben elaborate, e dopo ne andremo a parlare, e vi dirò anche chi ha tirato fuori queste teorie, come le ha trattate, eccetera, eccetera, così iniziamo un attimino a concretizzare quello di cui stiamo parlando. Però si tratta comunque di teorie, e quindi io inizialmente l'ho preso un po' come... Beh, vabbè, siamo un po' alle solite, alla fine di ogni stagione si parla che arriva al capitolo 3. Perché, raga, cioè, non è che sono io a dirlo, voglio dire, Alla fine di ogni stagione si parla sempre che la prossima stagione sarà il capitolo 3. Sempre, raga, sempre. È una cosa incredibile. Dalla stagione... Non lo so da quant'è che si sta a parlare del fatto Ah, sì, torna la vecchia stagione, cioè, torna la vecchia mappa, ci sarà una vecchia mappa con le città vecchia... Cioè, cose incredibili. Alla fine di ogni stagione si leggono cose incredibili su sta cosa. E quindi, inizialmente, quando ho visto che ancora non tanta gente ne parlava, boh, l'ho lasciato un po' lì morire, non mi sono neanche informato più di tanto. Finché poi non ne ha parlato Cypher, che in realtà anche lui è quello che, diciamo, ha lanciato un po' la mina, la bomba proprio, no? Ha fatto partire il terremoto, perché poi quando ne parla uno come lui, tra parentesi, se non conoscete Cypher, in questo momento penso sia uno degli youtuber che fa più views su YouTube, sia col primo che col secondo canale. Ha due canali dove porta solo video di Fortnite tutti i giorni. Tratta Fortnite a 360 gradi, io lo seguo da più di un anno e mezzo, probabilmente. Quindi i suoi video mi capitano sempre anche in home page su YouTube. Quindi spesso e volentieri mi capita anche proprio di guardare i suoi video. Non nego anche il fatto che in passato mi è capitato di prendere spunto dai suoi video e anche di informarmi, quindi prendere proprio delle news dai suoi video. Infatti l'ho già nominato svariate volte. Chi mi segue proprio assiduamente sa che comunque è un nome che torna spesso nei miei video, insomma. Quindi quando ho visto che ne ha parlato lui, ho detto no, fermi qua, è successo qualcosa. Ma non ho aperto il video. Perché non ho aperto il video? Perché quando ho visto che una fonte abbastanza attendibile ne ha iniziato a parlare, non ho subito iniziato ad informarmi. Anche se, tra parentesi, già da lì mi ero iniziato un attimo in un po' a informare. Ma poi non sono mai andato in fondo per un semplicissimo motivo. Non mi volevo spoilerare il nuovo fumetto. Fondazione, Batman, quella roba lì. Anche se poi ho scoperto che non c'entrava nulla. Vi spiego questo piccolo siparietto. Il fumetto completo e tutto, comunque, è uscito già da qualche settimana. Poi era già stato leakato pure da prima. Ma io, per non spoilerarmi nulla, da quel punto di vista avevo completamente tagliato tutti i ponti. Non volevo saperne nulla. Non ho visto nulla ancora su quel fumetto. Se non qualche leak che purtroppo mi è capitato sott'occhio senza volerlo. E però, ieri, ieri, scusate ho dato una botta incredibile al microfono. Ieri mi è arrivata un'email, in realtà poi ho saputo che è arrivata anche a molta gente, che la mia consegna del fumetto è ritardata. Ha data da destinarsi. Ora, io quando ho letto quella cosa sono impazzito. Perché poi appena l'ho letto ho detto, ok, va bene, mi inizio ad informare almeno sul capitolo 3. Poi, se l'ego che mi arriva tra due mesi, allora lì mi metto un attimino a leggere sto cavolo di fumetto. Perché da quanto ho capito, però ribadisco, non l'ho letto. Però da quanto ho capito è abbastanza importante per la storia di Fortnite. Ma diciamo che è una cosa che davo per scontato. E anche per quello non volevo spoilerarmelo. Perché poi ci volevo fare un video, le prime impressioni, un po' riassunto. E vabbè, anche se tanto arriverà talmente tardi che ormai già tutti ne avranno parlato. E vabbè, raga. Quindi, insomma, ho iniziato a leggere queste cose sul capitolo 3. Ho iniziato un attimino ad informarmi. Ma prima di iniziare a parlare del capitolo 3 e quindi poi darvi le mie impressioni, vi volevo dire, tranquilli, non è che le GG News non le porto più. E' che nelle ultime settimane, non essendoci state patch, non ci sono state tante informazioni. Non ci sono stati tanti leak. Ecco, i leak che c'erano è stata, per esempio, la skin che è uscita l'altro giorno. Tiè, io l'avo letto il leak desta skin, raga, questa qua del League of Legends. Ma non l'ho riportata in un video. Cioè, avevo letto anche tanti altri leak su skin, roba un po' più blanda. Cioè, su quella roba, ragazzi, non mi va neanche di far... Cioè, sono molto sincero, ragazzi. Su queste news un po' più leggere, non mi va di farci dei video. Cioè, ve le riporto nel momento in cui ho qualcos'altro più importante di cui parlarvi. Allora, dato che ci sono, vi riporto tutte le news di quei giorni. È una cosa sbagliata perché sono un canale di news? Forse sì, però, se comunque mi seguite un minimo, sapete che io non sono incentrato unicamente sulle news. Tant'è che so praticamente due settimane che non tratto news, eppure comunque un video al giorno è sempre uscito. Quindi, ecco, cioè, io faccio le news quando mi piace portarvi quel contenuto che vi sto portando. Poi, non nego anche che comunque penso alla visibilità che possa avere quel video, eh. Non lo nego. Cioè, io so perfettamente che se parlo di un leak, di una skin che non si fila nessuno, quel video fa 5 views. È normale. E quindi è normale che poi non ci faccio neanche il video. Ma penso sia un discorso abbastanza logico. Non credo di dovermi star qui a spiegare chissà che cosa, no? Quindi, per una questione di interesse da tutti e due lati, quindi sia quello a livello di visual, ma anche proprio a livello personale, quando escono delle news un po' più blande, non ve le porto. Punto. Fine. Se nel momento in cui, come è successo già in passato, escono tante news che mi appassionano, che vedo che sono importanti, eccetera, ve porto pure 6 episodi in un giorno. Non è quello il problema. A me piace parlare. La trama di Fortnite, nel bene e nel male, mi piace. Il gioco mi piace ancora di più. Quindi, figuratevi. Figuratevi se non mi piace fare una cosa del genere. Per carità. Comunque, detto questo, allora, io qui ho due fogli, perché io in realtà sto parlando a braccio, però un po' di cose me le so dovute scrivere, perché se no, impazzivo. Sostanzialmente, regà, ho preso i video di Cypher, insieme alla mia ragazza che conosce l'inglese molto meglio di me, Serena, e abbiamo fatto una sorta di appunti. Cioè, siamo stati lì e abbiamo preso gli appunti. E mi sono fatto un po' un'idea di queste teorie che ha tirato fuori Cypher, che precedentemente aveva tirato fuori Ipex. Sì, Ipex, regà, non mi veniva il nome, però pure lui è un leaguer che seguo da tanti... Forse lui è stato il primo leaguer che ho iniziato a seguire? Forse sì, tanto tempo fa. E sostanzialmente, niente. Mi sono fatto un po' un'idea e adesso ne andremo un attimino a parlare. Allora, io voglio premettere anche già una cosa. Se vi state chiedendo la mia idea su sto capitolo 3, allora, avrebbe sia un impatto positivo, perché sicuramente porta tanta aria fresca al gioco, però dall'altro punto di vista non so se è il momento giusto per un nuovo capitolo. È per una serie di questioni che oggi non voglio approfondire, poi magari ci faremo un altro video. Però questa non mi sembra la stagione finale di un capitolo. Cioè, non lo so, regà, non mi sembra la stagione. Per carità, e poi tutto ci porta a pensare a un finale talmente pazzesco con la regina e i cubi assurdo. Però io vi vorrei ricordare che anche nella stagione 7 con la navicella degli alieni e tutta sta roba qui pensavamo chissà che cavolo dovesse succedere. E poi ci ha deluso. E infatti anche per questo, ragazzi, altro motivo mi sono dimenticato di elencare prima, anche per questo io ero un po' scettico su ste teorie del capitolo 3, perché un po' me lo immaginavo. Anzi, molte teorie non le potevo immaginare, però, tipo queste qui dell'evento, per esempio Cypher, ve lo spoiler o sta cosa, tra le sue idee ci sono quelle in cui dice eh, questo evento finale con la regina sarebbe talmente grosso da non poter essere un evento tra una stagione e un'altra in mezzo a un capitolo. Deve essere per forza l'evento finale di un capitolo intero. E non lo so, non lo so, perché negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, Fortnite già ci ha deluso talmente tante volte che ormai non rimarrei stupito neanche se ci deludesse anche adesso. Anche perché, raga, già ci sta delude, a mio avviso in sta stagione già ci sta deludendo, perché nella scorsa ci ha fatto aspettare tre mesi e mezzo per sta nave, poi per carità, evento bellissimo, però abbiamo visto le conseguenze. Diciamo, l'evento in sé è stato bello, ma le conseguenze sono state minime. E tante cose non ci sono state neanche spiegate, e spero che qualcosa venga spiegato nel fumetto, anche se non credo, o comunque in futuro. E quindi, anche in questa stagione, raga, eravamo partiti a bomba con sti cubi. Poi, al centro della mappa sembra che non sta succedendo nulla se non sti cambi di posizione del cubo, ora quel cubo d'oro è salito su, la regina sta là, il cubo blu doveva muoversi, poi non si è più mosso. Cioè, boh, raga, non lo so, mi sembra tutto sciapo. Cioè, è come se tipo Fortnite apparecchiasse, ok, immaginatevi, no? Cena, Epic Games è la madre di famiglia, sta lì, apparecchia, arriva Fortnite che magari è il padre che gli dà una mano a cucinare e fanno una cosa gigantesca, noi magari siamo i figli, i fruitori, no? Ok? Mamma mia, che immagine filosofica. Fanno una cena allucinante, bellissima, poi tu vai a mangiare e il piatto è bellissimo, sembra buonissimo, ma poi è sciapo. Cioè, però non sa di niente. E, boh, è questa la sensazione che sto provando ad ogni stagione. Poi, alla fine della stagione, con l'inizio della scorsa, ricomincia un po' sto ciclo, no? Come se magari, alla fine della stagione, ti prepara il dolce che è l'evento finale che è buonissimo. E vabbè, ricominci. Quella era la colazione, poi il pranzo, stessa cosa. Non lo so, regà. Mi è venuta un po' st'immagine filosofica per raccontarvi sta cosa che sto provando. È una cosa personale, è una cosa mia, però penso, da quello che mi scrivi tante volte anche voi nei commenti, che può essere una cosa condivisibile. Comunque, allora, una delle prime motivazioni che da Cypher è che sto capitolo 2 sta già durando di più di tutto il capitolo 1. Secondo me, già sta prova lascia un po' il tempo che trova, perché non è che noi abbiamo visto 3-4 capitoli che sappiamo bene o male Epic Games quanto li vuole far durare. Non ne abbiamo la più fallida idea. Può anche Darsi che ha già deciso le tempistiche che deve avere ogni capitolo, ma avendo soltanto un precedente non credo si possano già dare per certo alcune cose sulla base di questo. E infatti, non è l'unica prova che ha portato Cypher. Ne ha portate molte anche interessanti. Per esempio, c'è quest'emote che spero di trovare, però mi sa di no, l'ho shoppata, ragazzi. Ah, a parte che c'è nello shop nel momento in cui sto registrando. Praticamente c'è quest'emote che in realtà è uscita già un po' di tempo fa e dice un attimo, sono quasi alla fine del capitolo e sembra voglia riferirsi al capitolo di Fortnite, quindi a questo secondo capitolo. Calcolando che quest'emote è uscita già qualche settimana fa, potrebbe sembrare che stia dicendo siamo alla fine del capitolo. Però pure qui, ragazzi, potrebbe essere nemmote come un'altra, potrebbe essere tranquillamente che siamo quasi alla fine del capitolo, quindi non siamo alla fine del capitolo, quindi potrebbero starci ancora due stagioni, perché no? Cioè, se io sto leggendo un libro che ha 100 pagine e sto all'ottantesima pagina, anzi, 85, 88, perché stiamo per finire anche questa di stagione, se un mio amico mi chiede a che punto sei, beh, io posso dire che l'ho quasi finito, anzi, scusatemi, non un libro intero da 100 pagine, ma un capitolo da 100 pagine, scusate, ho sbagliato. Posso dire di essere già quasi alla fine, no? Cioè, io penso così, però vabbè. Comunque, andiamo avanti, scusate che guardo in basso, ma sto leggendo. Ah, sì, lui parla della data, cioè che il 5 dicembre, ora controllo pure dal calendario, dovrebbe essere una sorta di domenica, una sorta di domenica, sentite, ve lo sto dicendo, sì, è una domenica, quindi per lui sembra strano, secondo lui, tipo l'evento ci sarà la domenica, poi ci saranno i server offline fino al martedì e lancerà tutto. Oh, ok, sì, effettivamente è strano che la stagione termini il 5, quindi inizi quel giorno, è molto strano, questo sulla data va bene, posso anche starci, però, boh, avere come è successo questa stagione, cioè che c'è l'evento finale e poi il giorno dopo c'è la nuova stagione, boh, non lo so, regà, però anche qui, sì, sono tutte prove, anche quelle che ho magari screditato prima, e badate a quello che sto dicendo, cioè non è che ho demolito le prove di prima, possono essere validissime, anzi, queste teorie che ha tirato fuori Cypher, che ha tirato fuori Ipex e anche tanta altra gente, perché non sono stati solo loro, sono state molto interessanti, eh, anzi, però, boh, ribadisco, però comunque aspettate, perché c'è qualche prova un po' più schiacciante che anche a me fa vacillare, attenzione, queste non mi convincono tanto, ma dopo ce n'è qualcuna, allora, andando nella crew, ecco, vedete, comunque stiamo a fa bene a rimanere nella lobby, vedete, nella crew c'è scritto tipo che a un certo punto, qui, prossimo pass battaglia, capitolo 2, stagione 9, questa è la prova più importante che viene riportata da quelli che sono contro al pensiero di sto capitolo 3, ed effettivamente, regà, sta qua, c'è scritto, ci sarà sta stagione 9, va bene, però ci sono quelli che hanno contrabbattuto dicendo, eh, vabbè, ma è normale, non è che lì ti possono scrivere capitolo 3, però, che non possono scrivere capitolo 3, però potrebbero scrivere prossima stagione, possono rimanere un po' vaghi, però sembra, e questa è una notizia degli ultimi giorni, che a molti stia già cambiando questo messaggio, e quindi non a tutti, appaia, prossimo pass battaglia, capitolo 2, stagione 9, ma ad alcuni sembra stia comparendo il messaggio, proprio come stavo dicendo prima, prossima stagione, quindi, boh, staremo a vedere, non lo so, ah, poi lui dice che i blog ufficiali non nominano mai la stagione 9, ma parlano solo di nuova stagione, però, boh, mi sembra una cosa abbastanza normale, una cosa che a me sinceramente sta a far bacillà, è che tanti big si stanno esponendo, tanta gente, anche tanti leagher che hanno una certa credibilità, e soprattutto, ragazzi, io c'ho un leagher in particolare a cui credo fermamente, che è quel leagher misterioso, che non sappiamo manco se sia un leagher o è uno che ha avuto delle informazioni, perché tutto quello che ha detto quel leagher misterioso si è poi effettivamente avverato, e lui disse una cosa, che durante sta stagione avremmo avuto una regina, infatti è arrivata la regina dei cubi, e che sarebbe stata anche una protagonista del capitolo 3, ora, o effettivamente la regina la avremo anche per la stagione 9 e la stagione 10, che comunque è probabile, pure se mi sembra strano, dato che ad ogni stagione cambiano completamente i protagonisti e tutta la gente che c'è di mezzo, tranne quelli un po' più importanti tipo magari Jonesy, Laslone e questi qua, e quindi, però mi sembra strano, no, che rimanga lì altre due stagioni, quindi ecco, questa è una delle prove che effettivamente mi fa un po' vacillare, cioè, ok, va bene, effettivamente qui non so che dire se non staremo a vedere, anche perché, regà, ribadisco, il mio pensiero è un po' confuso, anche per quello sto facendo fatica a fare sto video e non lo volevo quasi fare, a parte che sta avvenendo lunghissimo, però è un po' così, c'è, sono delle prove, quindi devi crederci o no, o meglio, sono degli indizi, non delle prove, degli indizi, ah, poi sì, c'è il set della regina, ragazzi, che parla di fine, 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 e vabbè, prende ogni oggetto del set della regina parla di fine, quindi terrore al di là della realtà, ecco a massa, ho preso la skin che è l'unico che non ne parla, tipo, il tempo sta per scadere, tic toque, tic toque, ok, il tempo sta per scadere, però anche qui, no, il tempo sta per scadere, per l'attacco della regina, magari, non per forza per capitolo, cioè, anche qui, non la capisco sta storia, però, va bene, andiamo avanti, cioè, nel senso, sono sicuramente delle prove molto interessanti, ribadisco, sono delle teorie che fanno vacillare anche me, però, boh, comunque, questo bastone è incontrato in fine di realtà, e presto l'isola, regà, e presto l'isola, e vabbè, e presto lì, ok, cioè, va bene, ok, poi, ah, i capitoli seguono uno schema, nella prima capitola, nella prima capitola, vabbè, nella prima stagione di entrambi i capitoli abbiamo avuto una nuova mappa, te credo, cioè, nel primo capitolo, te credo, c'abbiamo avuto una nuova mappa, era uscita la battaglia reale, e nuove meccaniche, ribadisco, nel primo capitolo, è normale che c'hai una nuova mappa e delle nuove meccaniche, è un gioco nuovo, voglio vedere, no? Va bene, e nel secondo capitolo hai avuto, per esempio, il nuoto, la pesca, e nuove meccaniche. Nella quarta stagione di entrambi i capitoli ci sono stati i supereroi e nella finale ci sono stati i bruti, cioè, loro vogliono dire, questa qui è quella finale perché ci stanno i bruti e tutto tornerebbe con l'altro capitolo. Ora, questi sembrano dei segni importanti, effettivamente, uno dice, ok, sì, tutto torna, però, no? Se uno vuole vedere i punti, dobbiamo unirli tutti e secondo me ci sono molti punti a sfavore di questa stagione 8 che non è quella finale. Ma ce ne stanno tanti, ragazzi, cioè, di solito nella stagione, cioè, oddio, di solito, che poi ribadisco, lo che ho detto prima, abbiamo solo un precedente, quindi non sappiamo se poi Epic Games voglia fare sempre così. Cioè, se avessimo avuto 3-4 precedenti, allora puoi dire, ok, puoi prendere in considerazione queste cose, ma abbiamo avuto un solo precedente. Quindi, boh, rimango un po' scettico. E dicevo, nella stagione 10, per esempio, nella mappa, stagione, non ci sono, non mi sembra, perlomeno, non mi sembra di vedere dei riferimenti a tutta la stagione ora. In realtà, qui ci ho pensato bene e vi dico, qualche riferimento c'è. Per esempio, hanno raggiunto il lanciacranate di Kit, hanno raggiunto tutta un'altra serie di cose che magari erano presenti nel capitolo 2, però la maggior parte erano presenti pure nel capitolo 1, come per esempio le torrette montate e già c'erano nel capitolo 1, quindi non è un chiaro riferimento. Se avessero messo i boss, allora sì, cioè, io mi immagino una stagione finale del capitolo 2 con i boss, per esempio, e i cavò, almeno uno, qualcosa che faccia riferimento. E io non vedo, cioè, non vedo, ecco, non vedo una grandezza tale da poterla definire una stagione finale per un capitolo, sarebbe veramente deludente. Infatti, per quello vi dicevo prima che ha tanti lati positivi avere un capitolo 3 adesso, anche perché ormai la community quasi se lo aspetta al capitolo 3, quindi, vabbè, però questo è un altro discorso, ma potrebbe essere deleterio perché potrebbe essere buttato lì senza effettivamente, non dico un senso logico perché quello magari può avercelo, però sprecato, quello sì. Scusate, regà, verrà un video lunghissimo, ma prendetelo anche un po' come un mezzo sfogo, quindi se mi state ascoltando ancora vi reputo dei grandi amici. Ah, sì, ok, quest'altra è un'altra cosa che mi ha fatto un po' vacillare, effettivamente. Molte meccaniche di gioco in realtà sono state già ligate, per esempio la scivolata, le build prefabbricate, quella roba lì. Queste cose effettivamente sembrano delle cose che possono essere aggiunte in un nuovo capitolo, non in una nuova stagione qualsiasi, perché sono cose importanti, anch'io ne parlavo ai tempi e dicevo, regà, occhio, perché queste stravolgono completamente il gameplay, eh? E boh, cioè, sì, effettivamente sono state ligate un po' troppo presto, tante cose vengono ligate anche mesi e mesi prima, però cose così importanti, ligate così tanto presto, e quello mi sembra un po' strano, effettivamente. Quindi boh, lì, ok, non so cosa dire. Stesso discorso, ragazzi, per il modding e la creativa 2.0, cioè sono delle cose abbastanza grosse che posso arrivare con un capitolo 3. Ma Fortnite è già pronto? Ha una creativa 2.0 e ha il modding? Cioè, praticamente, tutta sta schermata delle modalità che hanno dato più importanza alla creativa sono arrivate adesso. Ok, sì, e questo potrebbe sembrare un preparativo per un prossimo capitolo dove la creativa è ancora più importante, però, oh, non lo so, ragazzi. Ah, poi vabbè, regà, c'è stata un'email di risposta, perché, per esempio, un utente aveva chiesto sta roba del capitolo a quanto pare, non ho capito bene che domanda abbia fatto l'utente in realtà, però, praticamente, gli hanno risposto dall'assistenza ufficiale di Fortnite che, praticamente, col 5 dicembre finisce il capitolo attuale. Però, regà, questo, boh, non lo so, cioè, mi sembra strano che sbagli una cosa del genere Fortnite, l'assistenza non dovrebbe sbagliare queste cose, però, allo stesso tempo, regà, pensateci un attimo, può spoilerare una cosa del genere? Cioè, non credo sia stato un bot a rispondere, perché non credo abbiano impostato un bot che risponde alle email a qualsiasi domanda tu gli fai o a quella nello specifico, quindi, credo sia stato un operatore. Può uno, cioè, sto operatore, ragazzi, non è che lo devono licenziare, cioè, non lo so, cioè, non può andare a spoilerare queste cose, quindi, io credo ci sia stato un errore di fondo. Mi pare strano che venga spoilerata tramite un'email, regà, anche se dovesse essere un errore, cioè, o è proprio stupido, no, no, regà, non lo voglio offendere, per carità, perché poi magari è la persona più brava del mondo, però non puoi sbagliare una cosa del genere, mi viene da ridere a pensare che abbia spoilerato una cosa del genere, quindi, boh, sta cosa la metterai un po' da parte, però si sembra un po' ambigua. Ah, poi, regà, iniziamo un attino a parlare della mappa, la mappa, cioè, che sembra tipo che sotto la mappa attuale ci sia la mappa del prossimo capitolo, perché andando a vedere dei teaser vecchi, unendoli un po' quella roba nuova che abbiamo visto, poi tipo perché su Twitter hanno cambiato anche l'immagine del banner, i vari, non mi ricordo chi, eh, perché sì, mi sta, di adesso Serena, effettivamente era Donald Mustard che aveva messo il banner con Jonesy il punto zero, eccetera, dice tutto tornerebbe così, sì, ok, effettivamente potrebbe tornare, però qui stiamo parlando della mappa, sì, effettivamente un cambio di mappa del genere può esserci solo con un nuovo capitolo, quello lo dico anch'io, però, boh, cioè, può esserci anche tra altre due stagioni, cioè, non capisco perché debba succedere adesso, ma vabbè, comunque, cioè no, scusate, qui ho saltato io un pezzo, cioè, molti dicono che la regina si è messa lì al centro proprio perché è proprio da lì che poi si passa sotto all'altra mappa e quindi mo' la regina fa cose e si va a finire sulla mappa sotto ed effettivamente non è che, ora io non mi aspetto che la regina rimanga lì al centro della mappa altre due stagioni, quello che dicevo prima, non credo che la regina rimanga al centro di tutto per altre due stagioni, però ragazzi, se ci pensate bene, tutto quello di cui stiamo parlando porterebbero ad una vittoria della regina, cioè tutto ciò accadrebbe solo se la regina dovesse vincere, che per carità sembra anche un po' la cosa più logica, però fino adesso l'O.I. l'ha sempre scampata, può tranquillamente perdere, per carità, non è che sto dicendo quello, però boh, potrebbe anche vincere adesso l'O.I. e poi può succedere qualcosa tra altre due stagioni, non lo so. Poi tramite un teaser, sempre quello lì di Johnny, dai riflessi dell'acqua sembra un attimino che sia appunto sotto la mappa perché si vedono rocce dalle finestre, cose un po' così, quindi quello appunto è la mappa sotto, poi proprio no, c'è l'immagine di Johnny che si butta e va nel mondo sotto sopra quello dove poi cade appunto nel punto zero. Poi c'è un tweet di Mark Rain, grandissimo Mark, un altro dei pezzi grossi di Epic, oddio, avevo letto che mi sei tipo vice vicepresidente o presidente? E sei vicepresidente o comunque un direttore? Però no, mi sembra più vicepresidente. E vabbè, ha risposto a un tweet che gli chiedeva sì ma che fate quindi con sto capitolo 3, come se tipo la gente si aspetta una risposta. Cioè, ragazzi, vi aspettate una risposta ufficiale da parte di Fortnite? Eh no, cioè no, no ragazzi, stiamo parlando di teorie, non può rispondervi così o meglio, lo possono anche annunciare però non in risposta a un tweet, cioè una cosa tristica, immaginatevi se Fortnite andasse a annunciare il capitolo 3 rispondendo ad un tweet. Cioè ragazzi, la cosa più triste del mondo. Va bene, quindi niente, uno gli ha chiesto così del capitolo 3 e lui gli ha risposto il tempo ce lo dirà. Che dice un po' tutto e nulla in realtà, cioè boh, ok, poteva farsi gli affari suoi, sì, ha risposto in maniera vaga e può succedere di tutto, sì, quindi chi se ne frega nel senso, può voler tutto e può voler dire nulla, non lo so regà, cioè c'ha miliardi di sfaccettature questa cosa. Diciamo che non vai a rispondere così lasciando un po' di speranza alla gente e poi non glielo dai, cioè sta roba Epic Games lo sa, cioè o Rain non si è regolato o comunque Epic Games lo sa che non conviene creare tanta aspettativa alla community, sì, ok, serve per creare hype, però se poi la deludi è macello, no? Quindi boh, vabbè, comunque, detto questo, bene o male ho trattato più o meno tutto, in realtà mi sarebbero serviti molti più video, cioè considerate che io ho trattato tutto quanto in un video e la gente ci ha fatto tipo Cypher stesso ci ha fatto tipo un paio di video sul secondo canale tipo tre video sul primo, Apex eccetera hanno fatto svariati tweet, svariate teorie, svariate cose, cioè io ho tradotto tutto in un unico video così me lo so tolto con un unico video e, regà, vi dico la verità di questo capitolo 3 ne andrò a parlare solo se dovesse succedere qualcosa di clamoroso. Se succedere qualcosa di clamoroso o qualcosa che proprio mi attira, attira la mia attenzione, mi appassiona, allora sì, però per adesso vi ho detto quello che penso per lo meno di quello che è uscito fino ad ora poi magari oggi che sto registrando questo video uscirà la notizia più incredibile di sempre e andremo a vedere. Vabbè, comunque, regà, detto questo, scusatemi per probabilmente il video più noioso di sempre, quasi sicuramente lo è, vi ricordo il codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora nulla aveste fatto, lasciate un bel mi piace, da domani torneranno dei video normali, ribadisco, perdonatemi ragazzi, però ribadisco, ho traente riassunto settimane e settimane di video su sto capitolo 3, me lo volevo togliere con un video unico, così almeno non stavo qui a tartassarvi giorni e giorni e giorni sullo stesso argomento. Tanto, chi se l'è voluto vedere tutto se l'è visto tutto, chi non se l'è voluto vedere non se l'è visto e così via. Niente, regà, per me è tutto, ci becchiamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!